La diagnosi precoce delle malattie vascolari può fare la differenza nella tua vita. Con l'esame ecografico Eco Color Doppler RTETSA potrai prendere misure preventive e ridurre i rischi vascolari. L'Eco Color Doppler è una tecnica di imaging medicale che rivoluziona la diagnosi e il monitoraggio delle malattie vascolari. Grazie alla sua precisione potrai scoprire la condizione dei tuoi vasi sanguigni con dettagli incredibili. Durante l'esame il nostro medico è un'esame.